Sicilmente prevedibile visto che è mancata un'indicazione da parte del gruppo? Ripeto, noi abbiamo uno statuto chiaro, anche quando non arriva un'indicazione da parte del gruppo chi fa parte di un partito aderisce a quello statuto e ai valori di quello statuto. Quindi evidentemente qualcuno non si sente del Partito Democratico oppure non ha letto lo statuto. In entrambi i casi credo che debba fare i conti con la propria coscienza. Adesso cosa avete intenzione di fare? Potreste far saltare il numero legale e non votare la legge nella sua interezza? Adesso noi ci incontriamo per capire anche quali sono le reazioni, perché c'è chi è delusa, chi è arrabbiata, chi davvero vuole a questo punto risposte chiare, concrete, nette, precise. Io mi rimetterò a quello che decideremo insieme perché questo sì, noi donne sappiamo essere democratiche, lo abbiamo dimostrato più volte, anche responsabili, però stavolta davvero si è passato il segno. Evidentemente però il patto di ferro tra Renzi e Berlusconi, questo è evidente, ha tenuto molto bene. Ma questa questione era fuori dal patto, tanto è vero che lo stesso Brunetta ha detto è un voto di coscienza, un voto che lasciamo libero, quindi chi non ha capito che nulla sarebbe saltato se fossero passati questi emendamenti è di nuovo qualcuno che non ha voluto rinunciare alla poltrona. Si è parlato di poltrona in questi giorni. Ecco, io credo che i nostri colleghi uomini abbiano avuto un po' paura di perderne qualcuna. Grazie.